Ciao, sono Marco Fantinato, gioco nella palla a mano Cassano. Siamo qui a Mezzocorona con la rappresentativa dell'Area Nord e oggi abbiamo giocato contro il Rovereto. Partita vinta, ma abbiamo iniziato bene il primo tempo, al secondo abbiamo avuto qualche calo, ma alla fine siamo riusciti a portarla a casa.